Credo che la Costituzione italiana sia bellissima, ci sono degli articoli fantastici. L'articolo 3, ad esempio, dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Persona umana è un termine bellissimo perché si intende l'essere umano a tutti i livelli, livello fisico, livello mentale, livello spirituale. Bene, adesso vengo a scoprire che certe attività che io un tempo pensavo essenziali per il pieno sviluppo della persona umana sono invece inutili. Ci si può allenare a casa, dice il nostro governo. Quindi il teatro, la danza, lo yoga, l'educazione fisica, lo sport, sono attività non essenziali per lo sviluppo della persona umana. E' molto interessante, è molto interessante riuscire a comprendere qual è l'idea che i nostri governanti hanno dei loro cittadini. Molto interessante. Ci rifletterò.